To be I or not to be? Qui sta il dilemma. Se sia più nobile incassare i colpi della concorrenza o... reagire! Munirsi in azienda di SAP Business Objects BI in edizione analitica. Contrastare un mare di affanni e porvi fine. Scegli una piattaforma di business intelligence davvero completa. Pensata per chi sa prendere decisioni, ma vuole farlo dati alla mano. Fino al 30 novembre, se sei un nuovo cliente, risparmi il 15%. Visita bihappy.it o chiamalo 800-900-727.